La città sicura, la città che si prende cura delle donne ma anche di tutti gli altri soggetti più fragili all'interno della società. Una città quindi più amichevole dal punto di vista di tutti. Stiamo presentando questo manuale come consulta delle elette in tutte le realtà del Piemonte e pensiamo che possa portare a progetti concreti. Per il mese di aprile gli appuntamenti di presentazione del progetto La città sicura promosso dalla consulta regionale delle elette sono in provincia di Torino lunedì 8 alle 18 nella biblioteca di Casellette e mercoledì 10 nella biblioteca di Venaria alle 17. Per la provincia di Vercelli a Cigliano il 12 aprile alle ore 21 nel centro incontri di piazza Lorenzetti.